Il destro del Montoro, sfera ribattuta, deviazione, interviene Tornatore che blocca. Il destro, sfera che va oltre il centrocampo. Nel numero 10, l'apertura in profondità, fermata. Azzurri in azione. Per l'arbitro la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco, la giocata del numero 7, Riccio. Bella la sua giocata, ma secondo l'arbitro la palla è uscita fuori. Azzurri in azione, il Montoro recupera. Colonna. Montoro in azione, avanza. Ancora Colonna, la finta. C'è uno scontro tra due giocatori. L'arbitro fischia. Grazie. Batte numero 7 Riccio Paldoni in area di rigore colpo di testa finale attenzione palla alta sulla traversa vicino al gol il Montoro quando oramai mancano pochissimi minuti alla fine della partita mancherà qualche minuto fondo aria tornatore sul pallone pallone al centro campo sfera in profondità un pallonetto attenzione bravissimo tornatore che respinge il tiro in realtà impegnato seriamente risponde con riflessi pronti il portiere del Real Calcio Forino ottimo il tiro del Montoro pallone al centro campo di nuovo il Real Forino che avanza la finta i del Gaizo il sinistro azzurri in azione fallo punizione fallo punizione a fuori del Real Forino fallo sul numero 8 russo finisce la partita Real Forino 0 Montoro 0 grazie l'attenzione io ho terminato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti